La tristezza di questo giorno è che non può soffogare, potete imparare a fare il giorno. Abbiamo imparato a fare il giorno in questo anno che sono tornati a procurare i sovraienti, e sperare la causa della guerra, e con l'ora esercitare la morte. La tristezza di questo giorno è che non può soffogare. La tristezza di questo giorno è che non può soffogare.